Lo scorso 9 maggio sono ripresi gli scioperi nello stabilimento di Pomigliano della multinazionale Stellantis. In questa intervista ne parliamo con Domenico Loffredo, recentemente eletto RSA per la FIOM CGL. Mimmo, ci puoi spiegare quello che è successo in fabbrica negli ultimi giorni? Allora, questa era già una prima risposta da parte dei lavoratori con degli scioperi che si sono incentrati fondamentalmente nel reparto l'astrosaldatura dove è accaduto proprio l'evento e il reparto adiacente, che è il mio reparto, è lo stampaggio, che si sono fermati quasi del tutto, quasi al 100% per protestare contro le condizioni di sicurezza. Perché fondamentalmente noi stiamo denunciando da mesi, anche con delle denunce all'ASL esterne, quindi alla fabbrica, che le condizioni di lavoro a causa del taglio dei costi che Stellantis sta mettendo in campo sono peggiorate a tal punto che fanno rischiare ai lavoratori di potersi far male. Lo diciamo da tempo, abbiamo, come dicevo, fatto delle denunce all'ASL, ma molto spesso queste restano inascoltate perché sia all'ASL sia all'Ispettorato al Lavoro, dobbiamo essere sinceri, non hanno mai risposto a questo tipo di denunce. Quindi non ci resta insomma che poi provare a mettere in campo delle iniziative in fabbrica. Da lì poi siamo arrivati al 9 maggio, quando fondamentalmente l'azienda comunica ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali, un aumento di cadenza. L'aumento di cadenza vuol dire che dal giorno prima che si facevano 300 vetture, il giorno dopo se ne sarebbero fatte 306, che per chi non conosce le catene di montaggio sembra quasi irrisorio, diciamo, come elemento. Ma vi posso assicurare che fare 6 vetture in più, senza avere altro personale che magari si va ad aggiungere a quello già presente, e senza magari cambiare dei tipi di lavorazione sulla catena, possono essere molto pesanti per i lavoratori. Perché semplicemente si tratta di fare le stesse operazioni che si facevano il giorno prima, ma con una velocità più alta. Questi cambi di cadenza sono cambi che avvengono con una certa regolarità ormai in Stellantis, però questa volta, a differenza delle altre volte, insomma, i lavoratori hanno chiamato i delegati della FIOM e diciamo, il giorno in cui si è messo in campo questo aumento di cadenza, c'è stata una risposta eccezionale da parte dei lavoratori. Talmente eccezionale che si è partiti con uno sciopero sul montaggio palla, ma ben presto, diciamo, ci arrivavano chiamate anche da altri reparti che dicevano vogliamo partecipare allo sciopero e fondamentalmente da lì è partito il corteo interno alla fabbrica, una cosa che non si vedeva da più di dieci anni. Questo sciopero è andato benissimo, il primo sciopero è stato il 10 maggio del turno di pomeriggio e doveva durare un paio d'ore e invece è durato otto ore con l'uscita anticipata dai cancelli. Sono cominciate ad arrivare le telefonate dei lavoratori dell'altro turno che hanno detto ma noi cosa facciamo, non scioperiamo domani? e quindi di lì si è partiti anche sull'altro turno, sul turno di mattina e si sono fatte ulteriori otto ore di sciopero. Nei giorni seguenti le ore di sciopero sono diminuite, ma per una questione molto semplice che noi parliamo tanto di inflazione, di peso ovviamente della questione salariale è ovvio che questo non possiamo tenerlo completamente fuori da queste dinamiche dobbiamo essere consapevoli che chiedere di scioperare a dei lavoratori che hanno già delle paghe che non sono all'altezza della situazione che viviamo è un sacrificio non indifferente a che abbiamo fatto una riunione come delegati una riunione in cui abbiamo dibattuto di come andare avanti su questa situazione e si è deciso di fare un comunicato nostro che mi epilogava tutti i punti e i temi sui quali noi avevamo posto l'attenzione e in particolare per esempio si parlava dei ritmi di lavoro e quindi delle pause che prima dell'era Marchionne erano di 20 minuti e 20 minuti e che invece oggi sono quindi 40 minuti nel totale e invece oggi sono 30 minuti e sono soddivise 10 minuti, 10 minuti e 10 minuti questo in particolare per le catene di montaggio e vi posso assicurare che in 10 minuti se guardate come è costituito il capannone del montaggio che è molto grande quei 10 minuti non bastano per fare tutto quello che uno dovrebbe fare cioè o vai in bagno o vai a mangiare o vai a fumare se vuoi fare tutte e tre le cose insieme molto probabilmente non riesci a stare nei 10 minuti quindi fondamentalmente c'è una richiesta da parte dei lavoratori di avere una maggiore possibilità di riposarsi e di rilassarsi durante il turno di lavoro e quindi l'idea è stata quella di avanzare una vecchia proposta che avanziamo praticamente dal primo momento in cui è stato sottoscritto il CCSL e cioè il fatto che dei 30 minuti dovessero di nuovo diventare 40 e quindi dovessero ritornare insomma all'era premarchione adesso però ci troviamo di fronte al fatto che ovviamente l'azienda non ha dato nessun tipo di risposte rispetto a quelli che erano state gli elementi proposti dalla FIOM e dai lavoratori insomma una serie di pressioni che vengono fatte su di noi che bene o male abbiamo le spalle larghe perché questa cosa già l'abbiamo vissuta con una certa frequenza in passato ma il problema è che ovviamente viene fatta anche a tutta una serie di lavoratori che hanno scioperato e quindi ci sono stati spostamenti cambiamenti di gente che era stata spostata e collocata in determinati posti per lavorare è stata rimandata indietro insomma una serie di forzature che l'azienda sta facendo proprio per intimorire i lavoratori a non continuare a partecipare alle iniziative di sciopero quindi la domanda che ci si pone adesso è come si continuerà come si va avanti in questa battaglia una cosa è certa fermarsi non si può cioè nel senso che una volta che si è aperto uno scontro noi abbiamo l'obbligo insomma anche come FIOM di continuare a mantenere un punto e se l'azienda ovviamente mantiene il punto ci saranno ulteriori iniziative ma sarà sicuramente da come dire da l'idea che è emersa poi oggi dalla riunione che è stata fatta oggi è di continuare ove ci sono le possibilità cioè quando i lavoratori lo chiedono di continuare a scioperare su determinati grazie a tutti Grazie a tutti